Mi chiamo Antonio Schito, ho 49 anni, formazione artistica all'Accademia di Belle Arti e mi trovo a lavorare alla pietra seriamente da una quindicina di anni però da sempre provo perché sono del posto e quindi provo così per divertimento anche ho provato a lavorare appunto a intagliare in qualche maniera la pietra. La mia formazione è quella di pittore e di scultore diventa per ragioni, insomma, perché il territorio offre questo, una risorsa del territorio, tornato dopo gli studi fuori, insomma, avevo più possibilità di scolpire invece che di dipingere e quindi ho cominciato a lavorare alla pietra. È faticoso lavorare con la pietra, nonostante la pietra sia, a differenza di altre pietre, voglio dire, più morbida, più lavorabile, comunque sempre pietra, una pietra anche molto difficile perché a un certo punto li potrebbe anche abbandonare, mi spiego. Ci sono delle cose nascoste nella pietra che uno scolpendo non vede, ci sono delle precauzioni da prendere prima, ad esempio battendo la pietra col martello, con la mazzola, per sentire col suono eventualmente se la pietra è tutta aderente, c'è tutta attaccata o ci sono dentro praticamente degli spacchi che a prima vista non c'è e quindi è una pietra anche molto difficile da questo punto di vista, potrebbe a un certo punto abbandonarti e avere il lavoro, insomma, distrutto, insomma, a causa di questo. L'opera più bella forse la sto facendo ora, è un Cristo di due metri e mezzo alto, per la prima volta un'opera monumentale, fuori dalle misure 1 a 1. Si impara dal lavorare alla pietra probabilmente il rispetto che bisognerebbe avere, ognuno di noi bisognerebbe avere, guardando eventualmente i monumenti anche a Lecce, in provincia, insomma, la provincia è piena di straordinarie, secondo a mio parere, opere d'arte, fatte da mani che non avevano una formazione artistica, che raggiungevano la formazione artistica col sacrificio, con gli anni, nascevano appunto nelle cave, semplicemente facendo bisellature o scanalature, un lavoro di scalpellino, piuttosto umile, mai riconosciuto, e nei ritagli di tempo o alla fine della carriera, dopo aver sfamato e cresciuto i figli, probabilmente avevano la possibilità di creare dei freggi per un palazzo o addirittura qualche avventuriero, creare delle statue, insomma, per il paese o per la città. Bisognerebbe probabilmente avere un po' più di rispetto, si ha, non è che non si ha il rispetto, cioè non vengono buttate a terra, andrebbero lette forse con occhi differenti e con un po' più di rispetto per la gente che si è fatta nera sotto le cave, insomma, e respirato polvere. Grazie. 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 Grazie.